buongiorno a tutti e benvenuti anche questa settimana all'analisi di un dominio come vedete alle mie spalle oggi abbiamo giornale dello spettacolo punto it si tratta di un dominio che è rimasto sul web per 17 anni e che ospitava un sito sulle attualità del cinema e dello spettacolo che era legato anche ad una rivista cartacea abbiamo delle ottime citazioni secondo majestic abbiamo infatti delle citazioni dal sole 24 ore dal ministero dei beni culturali abbiamo citazioni anche dallo studio ghibli.org e dall'informa giovani di roma le metriche sono ottime abbiamo infatti un trust flow a 13 un citation flow a 19 o mosa authority a 34 si tratta quindi di un dominio che può aiutarvi a posizionare un sito che tratta delle tematiche dello spettacolo e del cinema e che resterà in asta sulla nostra piattaforma fino a giovedì prossimo quindi non aspetta che voi io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo dominio e vi aspetto sulla piattaforma ciao